il battesimo secondo via dottore un sorso di cognac volentieri l'anziano medico di marina allungò il braccio e guardò il bel liquido dai riflessi dorati salire sino all'orlo del bicchiere poi lo sollevò fino all'altezza dell'occhio lo accostò alla luce della lampada lo fiutò ne sorseggiò un poco e fece scorrere a lungo quel poco di liquido sulla lingua e sulla carne umida e delicata del palato e infine parlò che delizioso veleno o meglio che seducente assassino ineffabile distruttore di popoli voi altri non lo conoscete avete letto è vero quel libro stupendo che è l'assommoir ma non avete veduto come me l'alcol sterminare un'intera tribù di selvaggi un piccolo regno di negri quell'alcol che in barilotti rotondi viene portato lì da marinai inglesi dalle barbe rossizze con placida tranquillità e ho visto dell'altro ho veduto coi miei occhi un dramma strano e triste proprio qui vicino in bretagna in un piccolo villaggio nei dintorni di pont la bay abitavo allora durante un anno di congedo una piccola casa di campagna che mi aveva lasciato mio padre conoscete quella costa piatta ove il vento fischia tra i giunchi giorno e notte ove si morgono ritti o adagiati quegli enormi monoliti che furono simulacri di dei venerati un tempo e che conservano tuttora nella forma nella positura nell'apparenza qualcosa di preoccupante mi sembra che debbano da un momento all'altro animarsi che d'un tratto debbano con un passo lento e pesante avviarsi verso la campagna o volarsene via con immense ali di pietra verso il paradiso dei druidi il mare chiude e domina l'orizzonte un mare agitato cosparso di scogli dalle sommità nere e spumose simili a enormi cani in arguato ed i uomini si abbandonano a quel mare terribile che capovolce le loro barche con un urto solo del suo dorso verdastro e le inghiotte come pillole vi si abbandonano nelle loro piccole imbarcazioni giorno e notte audaci inquieti ebri ebri lo sono spesso quando la bottiglia è piena dicono lo scoglio lo si vede ma quando è vuota non lo si vede più entrate nei cattolari di quella gente non vi si trova mai il capo e se chiedete alla donna di casa dove ci trovi vi additerà il mare cupo e fragoroso che spinge alla riva la sua bianca saliva e anche il figlio maggiore è lontano ci sono ancora nei tuguri altri quattro o cinque ragazzoni biondi e robusti fra poco sarà la loro volta abitavo dunque una casa di campagna presso pont labbe mi c'ero stabilito con un solo domestico un vecchio marinaio e una famiglia bretone che vigilava la mia piccola proprietà durante la mia assenza questa famiglia era composta da tre persone due sorelle e il marito di una di queste il quale coltivava il mio giardino verso natale la moglie di costui partorì un maschietto il marito venne a pregarmi di fare da padrino al neonato non potevo rifiutarmi e mi chiese dieci franchi per le spese della cerimonia questa venne fissata il 2 di gennaio da otto giorni la terra era ricoperta di neve un immenso tappeto livido e duro che pareva sterminato a perdita d'occhio tutto il paese ne era avvolto il mare pareva d'inchiostro laggiù dietro il candore della pianura e lo si vedeva agitarsi inarcare la schiena svolgere le sue onde come se volesse avventarsi sulla sua pallida confinante la quale pareva morta tanto era calma e fredda e triste alle 9 della mattina che randecchi il padre della creaturina giunse dinanzi alla mia porta con la cognata la grande kermagan e la nutrice la quale reggeva il marmocchio avvolto in una coperta ci avviamo poco dopo verso la chiesa faceva un freddo terribile uno di quei freddi che screpolano l'epidermide e fanno star male pensavo al povero esserino dinanzi a noi e mi andavo persuadendo che quella razza bretona era davvero di ferro e i suoi figlioli erano capaci appena nati di sopportare passeggiate con un clima simile lungemmo dinanzi alla chiesa la porta era chiusa il curato era in ritardo la nutrice allora sedutaci su uno scalino prese a svestire il bimbo da prima credetti che avesse bagnato i suoi lini e che cercasse di lassettargieli quando mi accorsi invece che lo deludava interamente proruppi con ira ma siete pazza buona donna volete ucciderlo la donna rispose placida o no signore bisogna che aspetti nudo il buon dio il padre e la zia guardavano tranquillamente senza protestare era luso se non lo si fosse praticato sventura sarebbe sopravvenuta il bimbo mi irritai ingiuriai l'uomo lo minacciai di andarmene se non avesse impedito quella pazzia cercai di ricoprire con forza la fragile creaturina ma in vano la nutrice fuggiva dinanzi a me correndo sulla neve mentre il corpicino del bimbo diventava paonazzo stavo per abbandonare quei bruti allorché scorsi il curato che sopra aggiungeva seguito da segrestano ed è una ragazzetta del paese gli corsi incontro esprimendogli con vehemenza la mia indignazione lui non ne fu sorpreso non affrettò il passo non fece un gesto soltanto disse che volete signore è luso fanno tutti così e non si può impedirlo ma almeno spicciatevi il prete riprese non posso camminare più in fretta di così entrò nella sagrestia mentre noi ce ne stavamo raccolti sulla soglia della chiesa dove io soffrivo più del bimbo il quale si era messo a strillare forte per i morsi del gelo la porta al fine si spalancò ed entrammo ma l'infante dovete rimanere nudo per tutto il tempo della cerimonia interminabile il prete vi ascicava a sproposito le sillabe latine ufficiando con un'eccessiva lentezza una lentezza da testuggine sacra e la sua cotta mi agghiacciava il cuore come se fosse avvolto di un'altra neve per farvi più soffrire in nome d'un dio inclemente barbaro quella minuscola larva umana il battesimo al fine fu compiuto secondo il rito e la nutrice riavviluppò nella lunga coperta il neonato gelido che gemeva con voce acuta e dolorosa il curato mi disse volete accomodarvi a firmare il registro mi volsi verso il giardiniere rincasate subito ora e riscaldate immediatamente quella creatura e gli diedi alcuni consigli per evitare seppur ero in tempo una fusione di petto lui promise di seguire le mie istruzioni e se ne andò con la cognata e la nutrice io seguì il prete in sagrestia quando ebbi firmato il prete reclamò 5 franchi per le spese avevo dato 10 franchi al padre mi rifiutai di pagare una seconda volta il curato minacciò di strappare il foglio e di annullare la cerimonia a mia volta lo minacciai di rivolgermi al procuratore della repubblica la discussione fu lunga ma finì per pagare appena rincasato vogli sapere se non fosse accaduto nulla di spiacevole corsi da querandec ma né il padre né la cognata né la comare erano ancora tornati la puerpera rimasta sola tremava dal freddo nel letto e aveva fame perché non mangiava dal giorno prima dove diavolo saranno andati le domandai senza meraviglia né irritazione rispose saranno andate a bere per la festa era l'usanza allora pensai ai miei 10 franchi che dovevano pagare la chiesa e che certamente avrebbero pagato l'alcol inviai del brodo alla madre e ordinai che le accendessero un bel fuoco nel caminetto ero ansioso e furibondo mi ripromettevo di scacciare quei bruti e mi chiedevo con terrore cosa sarebbe accaduto a quella povera creatura alle sei di sera non erano rientrati ordinai al domestico di attenderli nemico di cai mi addormentai presto già che dormo come un vero marinaio all'alba fui svegliato dal cameriere che mi portava l'acqua calda per la barba appena aperti gli occhi chiesi e kerandek l'uomo esitava poi balbettò oh è rientrato signore a mezzanotte passata e ubriaco che non si reggeva in piedi e la grande kermagan anche lei e anche la comare credo che abbiano dormito in un fosso così il bimbo è morto senza che nemmeno se ne accorgessero mi alzai di scatto gridando il bimbo è morto sì signore l'hanno riportato alla madre la kerandek quando l'ha visto è scoppiata a piangere allora le hanno dato da bere per consolarla come hanno fatta bere sì signore ma tutto questo l'ho saputo solo stamane poco fa siccome kerandek non aveva né acquavite né denaro ha preso il liquido della lampada che lei signore gli ha regalato e hanno bevuto tutte quattro tanto che la kerandek sta ora molto male avevo indossato in fretta i miei abiti mi impadronì di un bastone e mi diressi verso il giardino col proponimento di punire quelle tre canaglie la poepera agonizzava avvenenata da quel che aveva bevuto al fianco del cadaverino nerastro del bimbo kerandek la nutrice e kermagan russavano distesi sul pavimento apprestai alcune cure alla sventurata madre ma riuscirono vane morì verso mezzogiorno il vecchio medico tacque riprese la bottiglia di cognac se ne versò un altro bicchierino e fatta ancora riflettere attraverso il biondo liquore la luce della lampada che sembra porre nel cristallo un succo chiaro di topazzi sfugi inghiottito un sorso il liquido perfido e bruciante grazie a tutti